l'equiparato della sinistra sport padova ed vincine due ben secondo tempo delle semifinali ma un decimo dietro partenza ottima per e ben la rimonta ottima di piazza lunga poi candiotto piazza lunga e cecchette ottonetti ottonetti l'ufficioso per piazza lunghi davanti a cecchette che dovrebbe aver demolito il primato abbiamo detto